seconda edizione di ora tg bentrovati apriamo subito con la cronaca catania san giuseppe l'arena droga e armi tra i cavalli sequestrati 21 kg di cocaina è stato tratto in arresto un 37enne vediamo il servizio nuovo blitz antidroga dei carabinieri di catania ma questa volta il quantitativo era davvero esagerato 21 kg di cocaina purissima del valore di 4 milioni di euro l'operazione scattata nelle campagne di san giuseppe l'arena arrestato un uomo il 37enne catanese santo sicali che utilizzava come copertura un allevamento di cavalli i carabinieri della compagnia di piazza dante coadiubati dallo squadrone lì portato cacciatori di sicilia e dal nucleo cinofili di nicolosi lo hanno ammanettato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze superfacenti detenzione di armi clandestine e munizioni l'intuizione investigativa degli uomini del nucleo operativo che avevano ricevuto informazioni su strani movimenti in quell'area è confluita in un blitz in piena regola eseguito in un vasto appezzamento di terreno nella zona di san giuseppe l'arena vicino all'aeroporto di catania fontana rossa all'interno di due casolari i carabinieri grazie al prezioso fiuto dei cani specializzati nella ricerca di droghe d'armi hanno rinvenuto e sequestrato i 21 chili di cocaina pura contenuta in 19 involucri sotto vuoto una pistola calibro 9 con la matricola parzialmente a brasa completa di serbatoio una carabina ad aria compressa marca gamò una scatola metallica contenente in piombini per arma ed aria compressa 70 cartucce calibro 12 a pallini numerosi proiettili un bilancino di precisione e materiale per confezionare la droga rinvenute anche 80 mila euro in banconote di diverso taglio una grossa cifra ritenuta a provento dell'attività illecita la pistola sequestrata nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del ris di messina per essere sottoposta ad esami tecnico balistici l'arrestato si trova nel carcere di piazza lanza sarà interrogata domani giorno di pasqua dalla gip di catania luigi barone la 38enne di paternò fermata ieri dai carabinieri su disposizione del sostituto procuratore valentina botti per l'omicidio preterintenzionale del padre giuseppe ciancito 78 anni postino in pensione vediamo se l'autopsia confermasse che giuseppe ciancito il postino in pensione di 78 anni il cui corpo è stato trovato ieri nella sua casa di paternò in provincia di catania è morto per infarto e non al culmine della lite avuta con la figlia che è stata fermata perché secondo gli investigatori lo avrebbe spinto facendolo cadere per terra e facendogli sbattere la testa potrebbe cambiare di netto la situazione di un presunto omicidio tra le mura domestiche loredana ciancito 38 anni nel carcere di piazza lanza l'accusa di omicidio preterintenzionale in questa abitazione su via catanzaro dove viveva con il padre con la madre i carabinieri su disposizione del sostituto procuratore di catania valentina botti che ha emesso il provvedimento l'hanno fermata poco dopo che il corpo esanime è stato rinvenuto dai soccorsi chiamati proprio da madre figlia giuseppe ciancito è stato trovato riverso per terra con una vistosa ferita al cranio non si esclude che uno spintone datogli presumibilmente dalla figlia gli abbia fatto perdere l'equilibrio cadendo per terra e sbattendo la testa contro un sanitario la lite infatti sarebbe avvenuta in bagno l'ennesimo alterco secondo alcuni vicini altri parlano di famiglia tranquilla di fatto c'è chi ricorda di urla avvertite in zona per discussioni tra queste quattro mura le indagini infatti si sono indirizzate subito nell'ambito familiare ma un esame approfondito potrebbe stravolgere una storia i cui momenti cruciali sono ancora tutti da chiarire intanto chi conosceva i ciancito racconta l'ex postino c'è che abitava qui ci portava c'è la posta anche a casa nostra c'è strana non c'è molto tranquillo diciamo come persona conosceva anche i parenti la figlia no la figlia si vedeva che girava sempre in giro c'è molto strano comunque però il postino era molto c'è una persona stabile diciamo c'è quando l'ha visto l'ultima volta ma l'ho visto un mesetto fa io abito qua vicino però non l'hai visto non so che era una bravissima persona era il postino anche della zona era una moda ora penso che era in pensione penso che era in pensione completamente no i carabelle rosano perché chiudo la moto sono venute perciò c'erano questi litigi con la figlia ogni tanto l'esecavano la ragazza non lo so se sta bene o poco bene ma tutti i famigli certo giustamente c'è quando salite la sia conosce in pace che non so noi non avevamo un rapporto no no io non è venuto mai ingere me no io manco ingere dita perché io non uso e con la moglie e con la figlia e con la figlia certo non so niente io lavoratori sfruttati erano pagati appena 3 euro due imprenditori a scicli sono stati arrestati dalla polizia nel ragusano dunque andiamo con il servizio che segue alcuni di loro avevano pure firmato un regolare contratto altri invece erano in nero e comunque di quanto previsto in busta paga in realtà non percepevano neanche il minimo sindacale parlare di cifre vergognose sarebbe riduttivo 3 euro per ogni ora di lavoro svolto tra la cura delle serre e la gestione del bestiame è successo a scicli in provincia di ragusa dove due imprenditori agricoli del settore florovivaistico sono stati arrestati dalla polizia di stato squadra mobile commissariato di modica con l'accusa di sfruttamento della mano d'opera denunciate anche altre due persone sul posto i funzionari dell'ispettorato del lavoro e dell'asp ufficio igiene espresal il servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro gli operai di diverse nazionalità romeni nigeriani senegalesi tunisini ma c'erano anche italiani pagati una miseria e costretti ad accettare condizioni di lavoro disumane per loro anche abitazioni fatiscenti magazzini o ruderi dove poter vivere e poi lasciati al lavoro senza alcuna precauzione per la loro salute nessuna protezione quando si utilizzavano speciali prodotti di fitofarmacia che peraltro per essere impiegati necessitano di speciali titoli che nessuno degli operai aveva e che sono altamente tossici e pericolosi se usati in maniera incauta i due arrestati che poi sono anche soci titolari di tre aziende hanno approfittato dello stato di bisogno di questi lavoratori che sono in tutto 14 le aziende gestite da quattro persone si occupavano di coltivare piante e fiori mentre uno degli indagati che il padre di uno dei soci arrestati si occupava di allevamento di mucche da latte in un casolare attiguo davanti agli investigatori gli sfruttati non hanno potuto fare altro che confermare quanto riscontrato dai pubblici ufficiali accertamenti per risalire inoltre ad irregolarità edilizie parecci siano alcune strutture abusive saranno i documenti a certificare quanto di lecito si trovava tra questi terreni raffica di controlli per la squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di catani poliziotti hanno passato in esame discoteche istituti di vigilanza privata ristoranti locali di intrattenimento pubblico dislocati in tutta la provincia attenzione alla ricerca delle inosservanze che possono costituire elemento di gravi pregiudizio per la salute e l'incolumità degli avventori poliziotti hanno riscontrato numerose gravi inadempienze che vanno dall'avere organizzato spettacoli violando le prescrizioni di sicurezza contenute nella licenza del questore per una discoteca di gran michele alla mancanza del certificato di agibilità rilasciato dalla commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli di un ristorante del medesimo circondario che aveva pure modificato il locale autorizzati nella planimetria listata dall'ASP nella fascia invece dell'Etna i controlli hanno interessato anche istituti di vigilanza e di investigazione qui sono state rilevate la mancanza di licenza prefettizia che ha comportato in un caso la denuncia penale del titolare alcuni illeciti amministrativi quali l'impiego della guardia particolare giurata come butta fuori. Terremoto di Santo Stefano dopo la pubblicazione del decreto per la ricostruzione parzialmente soddisfatto il sindaco di uno dei comuni più colpiti ACI Sant'Antonio. Vediamo il perché nel servizio. Soddisfazione a metà da parte del primo cittadino di ACI Sant'Antonio circa il decreto sulla ricostruzione dopo il lessismo dello scorso 26 dicembre. Non posso non evidenziare dice il sindaco Sant'Antonese come dal testo siano praticamente spariti i comuni. Confermate le agevolazioni legate a Imo e Tari ma rimane l'enorme problema della personale legato alla gestione dell'emergenza. Devo dire che un piccolo passavanti è stato fatto quindi è stato fatto il decreto, abbiamo la certezza delle somme anche se rispetto alla bozza iniziale già c'è una decurtazione ma la cosa che mi rende perplesso è il fatto che tutto è stato portato in cinque anni, la bozza iniziale si parlava in tre anni quindi le risorse per ogni anno secondo me non sono sufficienti ma è la cosa dal punto di vista soprattutto dei comuni che scomparsa completamente la possibilità di avere o personale supporto o addirittura il fatto di poter incentivare il nostro personale. Abbiamo detto in tutte le salse che abbiamo difficoltà grossissima e già nel gestire l'ordinario in una situazione del genere in continua emergenza con i cittadini che giustamente prestano ad avere risposte soprattutto ad avere attivate tutte le procedure in modo celere e noi ci troviamo in grossissima difficoltà. Mi auguro che nel momento in cui venga fatta la conversione perché il decreto legge deve essere convertito ci sia più attenzione a questo. Noi siamo il front office di tutto quello che succede quindi penso che sia necessario che tutto passi attraverso i comuni perché noi riusciamo a dialogare costantemente con i cittadini e sicuramente saremo un pungolo per tutto quello che può significare una ricostruzione immediata, efficace ed efficiente. Comunque è importante che questa ricostruzione venga avviata in tempi rapidi. Noi siamo pronti, ripeto, se ci viene data la possibilità noi siamo pronti, devo dire che i cittadini sono anche pronti, si sono costituiti in comitato, sono costantemente in contatto con noi, collaborano, ci danno il supporto che tutti abbiamo bisogno. Mi auguro che questo inizio sia l'inizio di un percorso che ci coinvolga perché è importante, anche nella nomina del commissario, perché vorrei aver nominato un commissario che gestirà la fase ordinaria della ricostruzione e avrà una struttura alle spalle e quindi penso che sia importante pensare che i comuni sono parte integrante e integrata di questo processo e quindi devono essere tutelati e soprattutto ascoltati. Apriamo adesso la pagina dedicata alla Pasqua, ma apriamo questa pagina comunque ampia del nostro telegiornale con degli auguri un po' insoliti, quelli che ha formulato nel pomeriggio di oggi attraverso un post su Facebook il Presidente della Regione Nello Musumeci. E anche a Pasqua il Presidente della Regione Nello Musumeci non le manda di certo a dire, con uno post su Facebook Nello Musumeci chiosa, richiamando tutti al proprio dovere. L'augurio di un Presidente che lavora per scattare questa terra, di un Presidente che è stato eletto senza promesse ma con l'impegno di tirare fuori la Sicilia dal pantano in cui si trova e si trova da decenni in questo pantano. La Sicilia è la più degradata regione d'Italia ormai da oltre 20 anni e fra le peggiori d'Europa. 5 anni di tempo ha il mio governo per poter risollevare la nostra isola. Non ci interessano le graduatorie, non ci interessano i sondaggi, non ci interessano gli umori, gli attacchi di tanti frustrati, siamo tutti incattiviti, gente che sputa veleno dalla mattina alla sera, gente che emette sentenze, no, tranquilli, perdete il vostro tempo. Io tiro dritto perché ho un impegno assunto con i miei figli, con i figli dei siciliani, con i miei nipoti e con i nipoti dei siciliani e non mi potrà fermare niente, non cerco voti, cerco volti, cerco gente che possa riavere il sorriso o la speranza. Per sistemare questa terra non ci vuole l'aspirina, ci vuole il bisturi, ci vogliono misure impopolari, bisogna dire qualche no e io ne ho detti tanti ed è anche per questo che adesso pretendiamo di più dai dirigenti, dai funzionari e dai dipendenti. La ricreazione dopo 15 mesi è finita, non ci sono più protetti e non ci sono più protettori in un momento in cui la Sicilia vive il periodo più tragico della sua storia e ci vuole speranza, ci vuole fiducia e ci vuole la certezza di potercela fare. L'unico obiettivo deve essere lavorare per questa terra, lavorare per tirarla fuori dal tunnel, lavorare per farla diventare competitiva rispetto alle altre regioni del nord, lo so, ci vorrà del tempo, certo la bacchetta magica se l'avessimo, saremmo felici, noi stiamo cominciando dalle fondamenta, mentre chi c'era prima cominciava dalle finestre e dai balconi, dalle fondamenta, questa terra si salva, questa regione si salva se cominciamo dalla base. Non basteranno i miei 5 anni, ma noi abbiamo messo un punto sul passato e abbiamo iniziato una nuova tendenza, ecco, spero che chi verrà dopo possa proseguire sulla stessa strada. Dunque la Pasqua, iniziamo dalla parte culinaria di questa festa, l'agnello al forno resta una delle pietanze più gettonate nel menù pasquale, ma come al solito insorgono gli animalisti. Un menù di Pasqua all'Uculliano, spesso a base di carne di tutti i tipi, la tradizione tiene ancora a banco per quanti scelgono di imbandire la propria tavola con l'agnello, cotto nei modi più disparati, scelta non condivisa da tutti, con pareri discordanti, tra chi consolida la tradizione e chi invece si dichiara assolutamente contrario all'utilizzo della carne di questi animali per arricchire il menù pasquale. C'è molta richiesta di agnelli in questo periodo di Pasqua, è una tradizione che ancora sopravvive? Allora, diciamo che prima ce n'era di più, ora un po' meno, ma sempre c'è Pasqua e sempre Pasqua e alla fine sempre l'agnello la vince. Cosa le chiedono in particolare per ribandire la tavola di Pasqua e Pasquetta? Qualche rosto o un po' di canne a pezzi, l'agnello, l'agnello ce lo chiedono, ce lo chiedono. Lei è anche nella duplice veste di allevatore, quindi quanto è difficile in un'alimentazione come quella di oggi portare avanti anche prodotti di questo genere? Genuini sì, ma insomma non avvezzi a tutti. Non è che è difficile, perché proprio gli agnelli li allevano le madri, per cui non è che è difficile per noi, però il problema è un altro, il problema è che c'è tutto questo, diciamo sono un po' l'avvocato del diavolo forse, ma sono in queste vestite, il mio lavoro è questo, lo devo fare per forza, se c'è richiesta che faccio? Devono avere un peso minimo per poter essere adibiti alla vendita? In verità no, però io se sono proprio piccolo non ne macello, a meno di avere i suoi 8-10 chili ce li devono avere, altrimenti che ci macelli a fare? Un lavoro che fa quindi secondo coscienza? Sì, io personalmente se ci fosse un referendum poterei per non macellarli, ma davvero non perché sono macellaio, se nessuno lo farebbe io sarei contento di questa cosa, perché si macellano adulti, non piccolini, però la richiesta è quella, è legale. Qual è la caratteristica della carne di agnello rispetto all'altro tipo di carne? È una carne più fina, più delicata, diciamo così, più delicata, ma è una cosa piccola per forza deve essere delicata. Dall'altra parte varie associazioni animaliste manifestano palesemente il loro dissenso sulla mattanza degli agnelli. Cerchiamo di fare in modo che la Pasqua rientri in quelle che sono le loro, le sue tradizioni o quello che è il suo significato prioritario, cioè significa quello di rispetto di ogni essere vivente e ovviamente significa pure non mangiarsi, come in questo caso nel fatto che durante la Pasqua viene fatta una strage di pori agnelli che vengono tolte dalle cure delle loro madri dopo alcuni giorni e dunque vengono poi sgozzati per il nostro piacere di mangiare della carne di innocente, anche perché la Pasqua e la cristianità ha sempre visto l'agnello come Gesù Cristo, nel senso che rappresenta la sua innocenza. Dunque non capiamo ancora oggi perché quelli che si credono cristiani continuano a mangiarsi l'agnello senza capire che la loro scelta di mangiarsi l'agnello significa anche uccidere l'agnello, uccidere l'innocenza che è nell'agnello, è quello che rappresenta l'agnello. Dall'agnello ai dolci pasquali parliamo a questo punto della colomba evidentemente, ma anche dei dolci tipici siciliani, tra questi la cuddura con l'uovo e poi l'agnellino di marzapame. Vediamo. E la colomba, la regina dei dolci pasquali, elaborata nei diversi gusti ma alla tradizione siciliana, punta anche su alcuni prodotti che hanno resistito nel tempo, dall'agnellino di zucchero alle classiche cuddure con l'uovo realizzate in modi diversi, ma pur sempre presenti in grande abbondanza sui banchi di pasticcerie e panifici. Quali sono le tradizioni dolciarie più tipiche per la Pasqua? Allora, le tradizioni dolciarie più tipiche, tradizionali sono l'agnello pasquale, le base con le uova di pasta reale che si usano a fare da parecchio tempo, diciamo, negli anni 60 fino ad oggi, diciamo, nelle pasticcerie e anche le base con di rame, diciamo, ho detto anche il periodo di morte, o ossa di morto, diciamo che è la stessa pasta, che si mettono le uova sopra e poi si decorano con dei fiorellini, le colombine. Le classiche cuddure con l'uovo? Le classiche cuddure con l'uovo, sì, che si possono fare anche di pasta di pane, come usano a fare anche nei biscottifici e nei panifici. Voi caratterizzate la vostra attività anche per la produzione propria, per esempio anche quella delle tradizionali colombe artigianali. Sì, sì, le colombe artigianali per motivi di spazio, onestamente nella nostra pasticceria è da poco che abbiamo iniziato a farle perché veniva un po' difficoltoso. Ora da qualche annetto a questa parte ci siamo organizzati e già è il secondo anno che le riproponiamo, dalla colomba classica anche alle colombe col cioccolato, per cercare di mantenere e di portare avanti anche noi questa tradizione della colomba. Quanto è ancora in voga la tradizione nell'acquisto dei dolci per la Pasqua e la Pasquetta? Sì, no, la vocazione soprattutto nei dolci artigianali, diciamo che 50-50, come si usa dire in posti al di fuori dell'Italia, 50-50 diciamo, tra il prodotto industriale che artigianale. Diciamo che il prodotto artigianale sta salendo di nuovo, sta prendendo di nuovo piede. La gente prima magari comprava senza pensare, ora fa più attenzione a quello che compra e a quello che mangia, soprattutto quello che porta a casa. I prodotti artigianali sono particolarmente ricercati anche nei panifici. Qual è il prodotto pasquale che le chiedono di più? La maggior parte richiede diciamo le culture, le classiche culture con l'uovo, che sono una tradizione diciamo ormai tramandata che facciamo ogni anno e quindi diciamo che i bambini aspettano diciamo il biscotto con l'uovo. Anche il classico agnello di zucchero va ancora abbastanza di moda o no? Sì, però diciamo che ormai sta andando pian piano scomparendo perché solo le persone anziane cercano quello, il bambino magari ti va a cercare là perché c'è il codetto, diciamo il caramello, quindi cerca di più la cucciola. Senta, ma la tradizione resiste ancora malgrado i prodotti più recenti? Sì, noi cerchiamo sempre di tramandare diciamo il vecchio passato, in modo che lasciamo quei ricordi e tramandiamo nel futuro per i bimbi. Curro con l'uovo come viene fatta? Quali sono gli ingredienti? Curro con l'uovo viene fatto con il rosso dell'uovo, il latte, zucchero, vaniglia, buro e farina bianca. Pasquaggiare, festa alla Proloco! La sala espositiva della Proloco per la prima volta si trasforma in un piccolo museo delle tradizioni pasquali. Da oggi tutti i giorni fino al 25 aprile la sede della Proloco di Giarre resterà aperta per accogliere le famiglie e i visitatori, come questa coppia, lei francese, cui è stato lasciato in dono un piccolo uovo di cioccolato. Fior di cioccolato, spiega il presidente Proloco Salvo Zapparà, è una novità che mette insieme ed amplia ciò che in piccolo si è fatto negli anni passati. Sarà questo bellissimo evento organizzato della Mediane Eventi, grazie anche al partner che è la Dolgam che ha offerto queste bellissime uova pasquali, non solo un arricchimento di tradizione siciliana con le cordure con l'uovo, è bellissimo vederle e dare anche un momento di relax e di divertimento proprio per i bambini. Chi ha realizzato queste opere che poi sono delle piccole opere d'arte? Esatto, i panificatori di Giare Riposto hanno dato questa disponibilità a poter fare questa tradizione e mettere in esposizione. Le uova presenti nelle diverse varianti saranno distribuite ai più piccoli, meraviglia poi per il padre di tutte, il gigante di cioccolato, due metri di altezza per un peso di 18 chili che resterà esposto fino al 25 aprile. 18 chili quest'uovo, quale saranno le sorti oltre ad essere in mostra e poter entrare poi nelle foto ricordo di questi bimbi? Ma è un momento bello perché poi noi lo offreremo a tutte per degustarlo ai nostri soci e non soci in una serata di gala che faremo prossimamente. Non solo festa ed integrazione ma anche momenti educativi e culturali con un recupero delle tradizioni artigianali, dure e colombe realizzate dal vivo, oltre al Museo dei Pupi Siciliani. Sono già tanti i gruppi di turisti di ogni parte della Sicilia attesi nei giorni clou della festa. La Prologo fa tanto per questa città, soprattutto per gli eventi, per le attività, cerca di fare aggregazione sociale, è un momento anche importante, perciò approfittiamo di fare questi migliori auguri di una buona Santa Pasqua a tutti i concittadini e non solo. Soldo alto di turisti a Catania anche per i riti sacri della Pasqua, ma anche ovviamente per questione turistiche per visitare i monumenti. Dicevamo i riti sacri della Pasqua, gli auguri pasquali dell'Arcivescovo di Catania e del Bescovo di Acireale. Vogliamo vivere la Pasqua nel contesto in cui ci troviamo e certamente questo significa il contesto del dissesto che vive il comune di Catania, il contesto dei danni delle terremoti che alcuni comuni della nostra diocesi stanno vivendo. Ecco, la Pasqua si inserisce in questo contesto. La Pasqua vuole darci la fiducia per realizzare, per dare il nostro contributo a fare in modo che il dissesto, anche i danni del terremoto, si trasformino in opportunità, in risorsa, risorsa per crescere nella solidarietà, risorsa per valorizzare l'impegno di tutti. Ed è proprio a questo scopo che indirizzo alla città, alla comunità diocesana questo messaggio. Voi restate in città, sono parole di Gesù e nel messaggio invito tutti a fare in modo che ci rendiamo strumenti di crescita, di autentica crescita nella fraternità, nella solidarietà. Affido a voi operatori dei media questo messaggio. È un messaggio di speranza perché è la vita che riesce a sfondare, a superare la morte. La morte nella visione cristiana è la conseguenza del tradimento di Adamo e Eva e di tutto il genere umano, quindi è la conseguenza di una trasgressione. La morte dunque implica vuoto, buio, distruzione, perché dopo la morte ci sono stati nel racconto biblico gli assassini, ci sono state le guerre, la violenza, i fratricidi. La morte dunque è un simbolo della violenza e della soperfazione e dunque del malessere dell'umanità. Di contro la vita è Gesù che la supera non perché nasce come Natale, ma perché va oltre la morte dalla tomba. È il simbolo che l'amore e la vita trionfa, può trionfare e più forte della distruzione, della violenza, dell'odio, cosa pessima nel nostro cuore. E dunque il mio messaggio non può essere quello di speranza, cioè non soltanto dobbiamo guardare a Lui che è risorto sull'altare, ma per i cristiani, e io penso per ogni uomo di buona volontà e di giustizia, possiamo fin da adesso partecipare della sua vittoria se nel nostro animo decidiamo di smetterla con l'odio, con l'invidia, con l'avarizia, con la superbia e decidiamo nel nostro animo di assennatamente di rispettare, di amare, di perdonare, di riconciliarci e soprattutto di comprendere prima ancora che di condannare chi ci sta a fianco o chi ci sta di fronte. Grazie a tutti. Il primo è trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, il secondo invece trasportato con una ambulanza all'ospedale di Caltagironi, in rilievi sono dei carabinieri che stanno accertando la dinamica dei fatti. Andiamo ad Acireale, incendio alle 18 di oggi circa, i vigili del fuoco del distaccamento acese sono intervenuti al centro commerciale I Ciclopi, appunto di Acireale, per un incendio che ha interessato uno motore del sistema di refrigerazione che si trovava all'interno di un locale tecnico dell'edificio. L'incendio è stato circoscritto e spento dai vigili del fuoco intervenuti prima che potesse provocare danni ulteriori e coinvolgere i locali aperti al pubblico utilizzando anche un estricatore di fumi. In supporto alla squadra di Acireale è stata inviata pure un autobot di rincalzo della sede centrale e l'esercizio è rimasto operativo, assolutamente operativo. Bene, dalla redazione nessun'altra novità, dunque ci fermiamo, termina la seconda edizione di Oratg che avete visto sul canale 89 del digitale Terrestre in Sicilia Diretti TV che avete seguito sul nostro sito internet o sui nostri canali social Facebook e YouTube. Prossimo appuntamento con Oratg lunedì alle ore 14. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ci lasciamo con il meteo e vi auguriamo soprattutto una Santa Pasqua. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, domenica di Pasqua, 21 aprile. Il cielo sarà leggermente coperto, qualche nube si estenderà sia sulla versante orientale che su quello occidentale dell'isola. I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali, i mari da leggermente mossi a calmi. Diamo uno sguardo adesso alle temperature. Si abbassano nuovamente a Catania previste una minima e una massima rispettivamente di 14 e 18 gradi centigradi, una situazione che rimarrà speculare sia sul messinese che sul siracusano. La temperatura più alta sarà rilevata invece nella parte estrema occidentale della Sicilia, tra Palermo e Agrigento con 19 gradi centigradi, la temperatura più bassa della con 6 gradi. La temperatura più alta è stata assinante. La temperatura più alta è stata assinante.